Il treno regionale, 2595, di Trenitalia, proveniente da Milano a Porta Garibaldi, è diretto a Livorno Centrale, delle ore 21.06, e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Sarzana, Carrara Avenza, Massa Centro, Forte dei Marmi Serravezza Querceta, Pietrasanta, Via Reggio, Pisa San Rossore, Pisa Centrale.